allora ragazzi dopo la batosta che ha preso oggi il mio lecce sarà difficile vedermi scherzare e ridere sarà difficilissimo però almeno il Cagliari in parte riesce a tirarmi un poco su di morale ma pochissimo davvero pochissimo abbiamo visto un bel Cagliari abbiamo visto un Cagliari tosto abbiamo visto un Cagliari che in questa Serie A ci sta alla grande e che dà continuità al risultato e ottenuto a Torino 15 giorni fa un Cagliari concreto un Cagliari che sa quello che vuole e davvero sono cioè quando vedo questa squadra sono orgoglioso sono orgoglioso perché vedi una squadra che combatte una squadra col sangue agli occhi tutto il contrario di quello che ho visto oggi col mio lecce quindi complimenti davvero complimenti davvero domani ne parliamo meglio domani farò un video su questa partita e diciamo fatemi sbogliere la rabbia adesso c'è una rabbia in corpo che voi non potete capire fatemi sbogliere la rabbia però sono davvero orgoglioso del Cagliari perché ho visto una partita micidiale mostruosa fantastica quindi ne parliamo domani con il Cagliari il Cagliari